Francesco Barone, docente universitario abruzzese, da anni responsabile dell'associazione Help Senza Confini, con alle spalle decine e decine di missioni umanitarie, lancia un ennesimo disperato appello dal campo profughi della periferia di Goma, nel Congo, dove donne, uomini e soprattutto bambini vivono in condizioni di assoluta precarietà con la minaccia di attacchi e saccheggi quotidiani da parte delle milizie di M23, un gruppo di ribelli che mira al controllo del paese. Mi trovo in un campo profughi alla periferia di Goma, qui ci sono migliaia e migliaia di bambini, donne e uomini che si trovano in condizioni di estrema povertà e vulnerabilità, sono persone costrette a fuggire dalle loro abitazioni a causa delle violenze e dei soprusi da parte del gruppo ribelle M23 e da parte di altre milizie che hanno come obiettivo l'accaparramento di risorse quali cobalto, colta, nore e diamanti. Sto assistendo alla sofferenza di milioni di persone rifugiate nei campi profughi attorno alla città di Goma. Tante donne sono state violentate, tanti bambini rischiano di morire di fame. La situazione è al collasso, si sta rischiando una catastrofe, bisogna intervenire presto.